Torna anche quest'anno a velocità, la giornata di sensibilizzazione ambientale dedicata al tema della bicicletta in particolar modo e alla mobilità sostenibile. Quest'anno però duplicano gli appuntamenti, non solo domenica 29 ma in realtà partiamo da sabato 28 nel pomeriggio, tantissimi appuntamenti dedicati al tema della bicicletta, come vivere meglio in città attraverso la bicicletta, tanti appuntamenti per i bambini e due in particolar modo appuntamenti culturali, non soltanto Vicenza Bike, quindi i giri turistici, bicicletta, la scoperta delle bellezze della città, ma anche una sfilata di moda in bicicletta che parte domenica 29 alle 17 da Palazzo Tiene.